salve amici tra i campi incolti oggi cerchiamo l'aglio orsino ovvero aglio selvatico la pianta la si può trovare nei boschi nei prati nei fossi ed eccola le foglie sono piuttosto strette ineretto hanno consistenza carnosa e sono di colore verde lucente inoltre sono caratterizzate da un forte odore pungente di aglio è una pianta bulbosa perenne erbacea non molto alta massimo 25 40 centimetri eretta innanzitutto va detto che dell'aglio orsino si consuma sia il bulbo che le foglie e persino i fiori a crudo o cotti il suo gusto è delicato e preribato rispetto all'aglio comune è una pianta officinale e si trova su tutto il territorio italiano dai 1500 metri di altitudine riconosciuto a livello medico ha proprietà antibiotica antimotica potente diuretico capacità di abbassare il livello del colesterolo cattivo nel sangue purificandolo anche da metalli pesanti disintossicante da parassiti e funghi nocive protegge l'organismo da attacchi esterni regolazione del battito cardiaco fiorisce tra aprile e giugno ma dato l'attuale innalzamento delle temperature è possibile trovarlo già a marzo la parte fiorita potrà essere utilizzata per insalata infusi frittate e maschere di bellezza ed ecco come estrarre il bulbo dal terriccio prendere le foglie tutte insieme della pianta ed estrarre con cautela lentamente siccome si tratta di pianta selvatica il bulbo centrale è arricchito anche dai suoi figliolini chiamiamoli così tra virgolette creati si attorno non vi spaventate anche essi sono ottimi per condire minestre la pianta riesce a crescere e formarsi anche tra le vecchie macerie anche lì estraete il bulbo delicatamente eccolo grazie mille se durante l'estrazione avvenuta non correttamente il bulbo rimane sottoterra non preoccupatevi usate una zappetta e distraetelo tranquillamente sempre con delicatezza e cautela ed ecco il mio raccolto usando mezz'ora del mio tempo le foglie molto profumate possono essere in piccole quantità aggiunte nelle insalate miste primaverili o usate per farne un pesto il bulbo può essere utilizzato una volta tritato per condire sughi pasta e zuppa patate in verde minestroni frittate pesce e cous cous conterendo un sapore particolare più aromatico rispetto a quello che si otterrebbe con l'utilizzo dell'aglio comune oppure lasciarlo essiccare e conservarlo per l'inverno prossimamente vi farò vedere come fare una bella insalata primaverile per ridare al nostro corpo l'energia la ricarica energetica dopo il periodo invernale adesso voi commenti adesso voi commenti